ciao amici bentornati nel canale o benvenuti se siete nuovi io sono maui e di solito nel mio canale parlo di genshin impact on kai star rail giochi gacha pokémon giochi nintendo in generale cosplay anime manga e tutto quello di cui mi piace parlare oggi siamo qui per parlare di breakers unlock the world un gioco nuovo in stile rpg che uscirà per pc e per mobile probabilmente nel 2024 della casa di produzione vic game studios la stessa che ha annunciato l'ocità di black clover mobile che uscirà proprio il 30 di novembre di questo anno che sta arrivando quindi nel giro di qualche giorno da adesso il gioco in questione gioco molto interessante è l'ennesimo gioco che sembra un po voler andare a spostare genshin impact dall'egemonia dei giochi gacha mobile soprattutto anche open world oggi voglio farvi vedere il trailer di lancio che è stato presentato circa un mesetto qualcosa fa e poi successivamente faremo una first reaction sia mia che vostra in contemporanea ai primi minuti di gameplay visto che è uscito qualche video al riguardo ci facciamo prima una presentazione per quanto riguarda il gioco perché magari tanti di voi non l'hanno nemmeno sentito nominare così vedete il trailer ufficiale e poi ci guardiamo insieme con anche mia totally blind reaction il gameplay ci sono circa sei minuti di video li guardiamo e commentiamo quello che vediamo io vi auguro buona visione fatemi sapere se il gioco vi stuzzica se pensate che lo vorrete provare per ora a parte che sia per pc e per mobile che uscirà nel 2024 da condata da destinarsi non si sa altro quindi staremo a vedere nel frattempo io vi auguro buona visione fatemi sapere nei commenti se il gioco vi interessa e ovviamente iscrivetevi qui al canale attivate la campanella e soprattutto seguitemi su tutti gli altri social in particolare su instagram per tutti gli aggiornamenti nelle storie e ovviamente nei vari post che posto e ovviamente anche sul sito viola dove facciamo le live dove proveremo sicuramente questo gioco e tutti gli altri di cui tratto di solito direttamente in live insieme quindi io vi aspetto anche sugli altri social e vi auguro buona visione ecco il trailer ufficiale che è stato lanciato circa un mesetto qualcosa fa che presenta proprio il gioco nella sua interezza queste vibes da your name subito con queste comete vediamo già subito un pool di personaggi soprattutto bellissimi vedo l'ora di vederli poi tutti nel dettaglio quali saranno vocabili immagino sarà sicuramente un sistema gacha e abbiamo le prime immagini del mondo da capire se sarà un completo per un mondo o meno però comunque sono sicuramente le ambientazioni aperte da esplorare c'è da capire se sarà più simile alla Genshin Impact quindi il totale aperto o più non Kistar Rail con dei percorsi predefiniti nei quali comunque spostarci e qui vediamo un po' di scene di combattimento ma queste ce le guardiamo meglio direttamente dopo vediamo quello che probabilmente immagino sarà uno dei villain principali del gioco e qua vediamo un po' di personaggi in azione vediamo un po' anche di waifu e sbandi vari che compaiono comunque diciamo che lo stile grafico a me personalmente ha ricordato tantissimo quello di Nino Kuni il gioco quello che era uscito a MMORPG l'anno scorso non so se l'avete provato c'è un paio di video sul canale di evocazione di Nino Kuni se volete recuperarle il disegno me lo ricorda tantissimo e a me piaceva tanto lo stile appunto di Nino Kuni poi il gioco non è stato gestito benissimo e quindi l'ho quittato però queste vibes a Nino Kuni mi piacciono un sacco e niente il trailer lo trovo super mega accattivante ci fa vedere tutto e niente però si vede già che c'è la base di qualcosa comunque di studiato e che incuriosisce quindi io infatti non vedo l'ora di provarlo assolutamente e ecco qua questo è il trailer ufficiale adesso ci andiamo a vedere i sei minuti di gameplay che sono molto curiosa di vedere da adesso sono totalmente blind anche io non so niente l'unica cosa che posso dirvi che so è che ovviamente non c'è l'inglese cioè per il momento in questi primi trailer non c'è l'inglese quindi qui vediamo proprio una scenetta penso all'interno della lore del gioco perché tutti questi giochi comunque hanno anche una lore molto ampia dietro basta vedere Genshin basta vedere star rail ma anche tanti altri lo stesso tower of fantasy quindi insomma vediamo un po' i personaggi sono visti anche nel trailer qui sta aprendo un sacco di casse sono tipo ma non ero pronta non ero pronta a questo e si è beccato uno schiaffo beh direi che è stato più che lecito onestamente ok qui abbiamo il gameplay abbiamo la schermata con i personaggi sul fianco un menu in alto molto simile a Genshin e sul lato invece sinistro in alto qui sopra di me riconosco una modalità molto simile a quella proprio di Ninokuni con il grado del dungeon la possibilità di uscire c'è la voce mappa la voce missioni e poi sotto abbiamo le skill classico eq come su Genshin più click del mouse per l'attacco base diamo lo switch dei personaggi lei è molto carina lei è una maga vedo c'è il dash che non si può lasciare all'infinito ma c'è ogni 8 secondi ok quindi c'è un cooldown per il dash questo picchia vorrei vedere una coupe vedere se hanno un'animazione figa tipo quella appunto nei nostri giochi ecco penso sia questa ok l'elemental burst ha un'animazione figa per ogni personaggio molto interessante new enemies approaches mi sa che è tipo una sorta di dungeon con orde di nemici questo magari è il boss del dungeon a occhio comunque il party è composto a tre personaggi ora non so se sono tre in generale o perché sono questi tre che vengono utilizzati per fare tutta la dimostrazione che quindi in realtà saranno di più quindi un totale di quattro se sarà effettivamente un party da tre ne sta subendo abbastanza la signorina se non si sposa che la sua bar sta molto carina molto carina mi sembrano tutti occhio dps anche lei ha tirato una bella scudata in fronte quindi sì mi sembrano occhio tutti dps comunque sono due barre vedo break il gioco si chiama proprio breakers non so se vuole un po' andare a simboleggiare il fatto che vengono rotti tipo degli shields e poi appunto si fanno i veri danni perché vedo c'è una doppia barra che non so se va a rappresentare la stamina o c'è proprio uno scudo da rompere prima prima di fare effettivamente i danni qui ha rifatto la burst comunque da questo penso sia un dungeon cioè il mondo lo immagino più aperto di così anche perché qua sta svolgendo delle missioni onda vedete wave che vuol dire ondata di nemici clear one clear two quindi manca la terza per completarlo e tra l'altro il grado è sceso probabilmente per una questione di tempistiche un po' alla abyss che se non lo finisci in tot minuti perdi la stella dell'abis penso che sia concettualmente una cosa molto simile ok finito il dungeon riparte un po' di gameplay immagino che questa è proprio una parte abbastanza anche iniziale della trama questo fa molto il re leone con timone e pumba con una pantana con una macata e simba cresce sarebbe carino capire che cosa dicono vorrei tantissimo conoscere qualche lingua asiatica per poter anche interpretare meglio tutti questi contenuti però ho fatto il linguistico ma non ho fatto quello diciamo di questa tipologia di lingue perché ho fatto quello classico quindi inglese spagnolo e tedesco ok si è formata una sfera lei ha accalpestato qualcosa vediamo è successo tipo colpo di scena o magari era un trabocchetto lei fa un vibe si chiacchiera troppo ok vabbè giustamente cerchiamo di aprirlo nella maniera più comoda possibile spacchiamoci lo scettro niente non ha funzionato se ne va arrabbiata lui è palesemente a disagio oh mio dio quanto forte e niente che dire integra proprio cioè nemmeno scalfita oh mio dio che trio bizzarro più che altro immagino il disagio di lui che secondo me queste due litigano in continuazione no vabbè poser ci deve provare lui con la sua super forza immagino sta dicendo gambare gambare ce la puoi fare vediamo ok ci penso io dimmi che la tocca è bassa e si apre mi piscio entra in contatto oh oh veramente come fa vabbè magari lui è tipo un po' il trailblazer non so se ci sarà un trailblazer insomma un personaggio starter ok penso che abbia rotto questo nucleo e ci fosse dentro qualcosa ecco ah lei è stasiata a tutto ciò che luce una gazzaladra una gemmina tieni ok questo è quello che sappiamo per ora sarà un gameplay molto molto rapido all'acqua di rose però comunque è interessante perché non siamo abituati a vedere in così tanto anticipo comunque i giochi l'unico grande dubbio che c'è al momento che è la cosa che un po' mi preoccupa è che non si sa se il release del global sarà contemporaneo a quello nel server asiatico io spero di sì perché mi farebbe piacere una sorta di continuità da un altro lato invece sarebbe anche comodo che uscisse prima di là perché così avremo un'idea dei banner come vediamo su tanti giochi però insomma io sono interessato ovviamente era un gameplay molto rapido qua vediamo qualcosa in più che il trailer che vi ho fatto vedere all'inizio questa è bellissima però io proverò io proverò come sempre vedremo insieme c'è da capire tante cose e non vedo l'ora vi auguro una buona giornata grazie per essere stati con me finora e fatemi sapere nei commenti che ve ne pare ciao 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 ciao